numero 5 questo modello rappresenta la giusta unione tra comodità e funzionalità l'impugnatura è morbida e consenta a chi lo utilizza di avere una buona presa la piastra è costruita con un sistema antiaderente che permette di cambiare in maniera pratica e veloce i vari fogli di carta vetrata presenta il sistema di aspirazione al cui interno è presente anche il filtro con il contenitore che può essere pulito in qualsiasi momento con un panno umido in dotazione vengono dati anche tre fogli di carta vetrata se ti interessa questo articolo trovi il link in descrizione numero 4 questa levigatrice triangolare risulta essere molto compatta si sviluppa più che altro in altezza in modo da garantire una presa ben salda si tratta di una levigatrice che sicuramente fa il suo dovere usufruendo di una potenza di circa 55 watt questo modello non prevede il sistema di aspirazione il prodotto viene venduto con una serie di accessori trovi il link con il prezzo di questo prodotto in basso nella descrizione del video numero 3 questa è una levigatrice triangolare a rotazione orbitale che per questo motivo permette di levigare al meglio la superficie la forma è compatta ergonomica e facilita il suo utilizzo anche con una mano sola la sua potenza è di 80 watt con circa 22.000 oscillazioni al minuto questo modello è dotato del sistema microfilter che permette di lavorare su una superficie sempre pulita il prodotto viene venduto con tre fogli abrasivi e una valigetta in dotazione se vuoi conoscere il prezzo di questo prodotto clicca il link in descrizione numero 2 questo modello può essere sfruttato negli spazi più piccoli e angusti arrivando dove una normale levigatrice neanche si sognerebbe sulla punta è presente un sistema di aspirazione dotato di un contenitore in cui viene raccolto il tutto attraverso un piccolo filtro nota particolare è la presenza di un elevato numero di accessori dati in dotazione parliamo di tre fogli abrasivi per la piastra due per il profilo da usare per i dettagli e una borsa multiuso trovi il link di questo articolo in descrizione numero 1 si tratta di una delle levigatrici triangolari più potenti presenti sul mercato utilizzando 160 watt è in grado di levigare o lucidare anche le più piccole superfici la velocità può essere selezionata tra cinque postazioni la potenza però viene raggiunta in maniera dolce grazie al particolare modo di avviamento le vibrazioni del prodotto sono ridotte notevolmente aumentando così la precisione durante l'utilizzo la piastra è divisa in due in modo da sfruttare meglio la carta sulla punta inoltre è presente un sistema di aspirazione che permette di aspirare la polvere levigata attraverso una piccola bocca puoi vedere il prezzo di questo articolo cliccando nel link in descrizione